Sono stati intercettati lungo l'autostrada del sole con due chili di hashish, per questo sono finiti in manette due trafficanti di droga. Erano le 16.30 dello scorso sabato quando una pattuglia della polizia stradale della sottosezione di Battifolle ha fermato per un controllo un'auto, un Audi con targa italiana e con a bordo due giovani. I due, nati in Albania ma residenti a Savona da anni, non hanno fornito delle convincenti spiegazioni riguardo ai motivi del loro viaggio e pertanto è scattata nei loro confronti una perquisizione personale poi estesa anche all'auto. A prima vista sembrava tutto a posto ma poi approfondendo il controllo gli agenti hanno cercato sotto il tappetino del sedile del passeggero anteriore. Alzata la moquette è saltato fuori un capiente sottofondo nel quale erano nascosti due panette di cielo fan da due chili di hashish per un valore complessivo di oltre 50.000 euro sul mercato dello spaccio. Per entrambi sono scattate le manette, sono stati condotti presso il carcere di San Benedetto. I due poi hanno anche raccontato di non essere entrati al casello a 1 di Arezzo ma quello di Valdarno perché avevano notato la presenza di tanta polizia e temevano un controllo, un'accortezza che però non gli è servita ad evitare l'arresto.